Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale! Allora oggi facciamo l'ABC Challenge con la ritmica che nessuno ha mai fatto su YouTube Allora, Flo estrae una lettera La prima che tocca all'interno del cerchio può dare la risposta deve essere un elemento che c'entra con la ritmica Ok? Tutte contro tutte, vediamo chi vince Via! Lettera B Direi Mark Mary Fallo vedere Cosa stavate dicendo? Fallo riprenderlo Dovrebbe riprenderlo Ok, passe Un punto per Lucy Prossima lettera Flo Lettera N N N No, dalla fura No, dalla fura Ottimo! Fai vedere come lo fai, nodo e poi grande arancio Wow, brava! Due punti per Lucy Due punti per Lucy Ragazzi attenti, attenti Via! Nuova lettera, la O O Bea Be' a Otto 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 Un attrezzo che vuoi Vai un po' E' una palla che così non mi muovo Vai Ok, un punto anche a Bea Altra lettera La T T T T T Vai Avete 15 secondi eh? Otto Me l'ho detto oggi Due Uno Stop C'era il tour planger Me l'ho detto oggi apposta Anna, fanne vedere una Vai Vai Ok Niente Tour planger Nessuno 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 Lettera L E' molto semplice Lancio Giusto Lancio Vai Più indietro Vai Sì Yes Altre Lettera Lucy è già tre Lucy è tre Mary ha uno Bea ha uno Lettera G Lucy Cosa? Giro 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 Vai Giro Anche gancio Quattro punti Quattro punti Quasi imbattibile Lucy Nuova lettera mi raccomando Lettera H Stava partendo ma Tredici Dieci No Sei Cinque Quattro Tre Due Zero Zero Stop No noi Non abbiamo pensato a nulla Eh vabbè Magari veniva in mente a voi Scusa Mi Ce ne sono altre in cui noi non abbiamo trovato nulla Lettera Geta Tipo questa Quindici Tredici Un Undici Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Stop Adesso ne esce un'altra gliela diamo buona no no vabbè fallo vedere però infilo direttamente al cerchio zainetto zainetto niente non possiamo dare il punto a nessuno peccato bastava che venisse un minuto e un secondo prima cos'è c'era anche l'arabesco brava lussi ho come l'impressione che vincerà lussi lettera i equilibrio equilibrio bene un punto lettera c c di canguro c'era anche il cerchio con la c eh certo meglio di no però se non vi viene niente va bene anche la tre ok cervo nuova lettera la f mi sembra di sì fai qualcosa fai due salti fu e te vai più indietro vai più indietro c'era fu e te poi farfallina farfallina sì brava lussi sei punti sei punti per lussi nuova lettera lettera r ruota c'era ruota rovesciata rischio c'era un sacco di roba con la r rotolamento fai bene brava 3 nuova lettera lettera q 10 10 7 4 facce devastate dalla q 2 1 stop cosa c'era il cuore doveva dire vabbè suggerisci gliene una non c'è ok n o m m m rimare 10 10 6 4 2 1 stop maneggio d'attrezzo floriana 1 floriana 1 la felicità dell'insegnante nuova lettera la e lettera b 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 15 16 16 Dondolino, buono Un punto anche Bea No, era il primo? Era il secondo, vero Bea? Ok, due punti E l'ultima lettera Dovrebbe indovinarle tutte e due Anna, altrimenti ha vinto Lucy Lettera S Spaccata Vai Marti Spaccata Staccata Staccata Bene Un'altra con la S, ce n'erano un sacco con la S Ultima Ultima lettera C Lucy Lucy, avete? C, di nuovo No, di nuovo Non era uscita Ah no, è la U Rimettetemi Era una U La U L'abbiamo fatta? Sì Sì Sì, onda avete fatto Pronte? Abbiamo sbagliato 3, 2, 1 U Ah sì No, sì No No, sì No Sì Ma a me mi mette un uovo Ma ascolta ma come fai l'uovo in ginnastica? Cos'è l'uovo? Sarebbe un uovo Sarebbe un uovo Ma non è un uovo? Vabbè L'uovo lasciamo stare Va bene Diciamo che nonostante l'uovo la regina dell'alfabeto è Lucy Anna 4, Bea 2, Meri 1, Marti 1 Brave Consigliateci nuove sfide e a 150 rai piacerebbe questo video Ciao a tutti Ciao a tutti